Il chakra Lascia stare Ieri mi sono preso a male Ho finito la terza stagione Da NaoTV A quanto pare NaoTV c'ha la mamma puttana Perché mancavano dieci episodi Per fine terza stagione E lui aveva finito Infatti io guardo la quarta stagione Su Netflix e ci sono parti Che non capisco Sarebbe su un altro twist Stavo ponendo la camera Messo a posto Tutte cose in gradi Ho ripescato le lettere del compleanno Dal diciottesimo E dentro la vostra lettera C'erano 5 euro Così Per dire La lettera di che cosa? Quattesimo La micola deve aver fatto una lettera Fatta invece Quella che hai messo sopra i regali Ah Sarà 5 euro Sarà 5 euro Sì Che strano Stanto da Stanto sono rimasti lì E me lo ho tirato fuori Per sento la lettera Pappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappappapp pensavamo che fosse cistite con la scorsa volta, stavolta no, si era torto il testicolo infatti l'ho fatto aspettare, mi fanno, eh, fai i colpi di tosse, fai questo, fai quell'altro fanno cose con, eh, dopo che me l'ha praticamente girato, che ha detto che era girato di un terzo da dove doveva stare, ora ti senti meglio, eh, sì, adesso sì, a posto, il samurai non si chiamai al 127, prima, non togliamo se fossi livellati, non posso, no, da di 2000, no, dimmi, no, vaffanculo, prendo offerta, c'era una scacata da darti, signor, 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 signorina castani, frinzi, vada a cacare, dottoressa, dottoressa, non basterà questo, no, per una merda di no, perfetto, usiamo una pietra, ma io l'ho messa la bendizione Kodama sull'elisira, una pietra, una pietra, io non l'ho mai usata qua, le pietra dell'anima, infatti ne ho 97 di quelle piccole, scusame una, Ma come fai a soffrire d'asma? C'è così tanta idea nel mondo A posto ora posso fare un livello Io non posso Ne saranno 500 precisi Ok, nel senso Vabbè, assomè Vuol dire che sei forti di livello Io sono al 92 adesso Questa porta non si apre da questo lato Ehi tu Cosa hai fatto? La tua vita passata Il re Aston Dell'esercito di Ishida Mitsunari Sono rientanati al castello Sawayama Probabilmente Non hai fatto niente di buono Quanto sei tosto Il castello sono apparsi dei demoni I nostri uomini sono convinti Che a darli si è il rancore di Ishi E questo ha matto il loro morale Irangin Posso chiederti di occuparti di queste cariature? A voglia Fratello Demone Dimmi la verità Ti hanno cariato Sono suggerendo la neve del lago Biwa Nella provincia di Omi Atoll Dopo che Ishida Mitsunari Rirebbe Dio madonna Vi è qua Il punto da diventare presto Noto come una delle due cose Che erano troppo belle per lui L'altra era Shimasakon Ora insieme al suo signore Ha perso il suo meraviglioso Torrione centrale Molto meglio Non ti sembra Tu morto Io vivo Sembra molto meglio Molto meglio Io non se lo merita Mi dava è morto Ho passato Mezza giornata Mezza giornata all'ospedale Stavo con compagnia mia madre Praticamente Hai visto che storia Questo è al 158 Io contro solo pippe Al 87 E al 76 Ho sceso le scale Il primo tizio Che ho sceso davanti alle scale E ha sceso Nessuno Davanti alle scale Tana Dove sono le scale? Qui non ti credo La scala da te E' un rumore d'acqua Qui sotto ce l'abbiamo Sta piovendo Qui sotto ce l'abbiamo uguale Aiuto Questa cosa fa? Prova sfidarlo ragà Prova sfidarlo Sfidiamolo Quante spada aveva? Non mi spari signorina Vaffanculo No ma basta Sparare Ma chi te ne ha regalato Quel fucile All'onda per Natale Se è un'allonda americana Sì Scusami Sono di fretta Questa stanza Mi fa cacchiare No Volevamo fare La cazzata Per allentare Questo trimone Non voglio morire Di dissenteria C'è il cascato La mia trappola Ma torpato Quanto è quello Del Lopes più L Via Corri fu G Mi è un po' arrota La situazione Ai 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 Sono solo queste Però C'è nessuno Ehi Atacco più 17 Però Perché è sull'eredità Non mi fido di queste gallerie Ehi Che schifo sei Lassopra Prova tutto Guarda i denti Ma ieri Continua Piovere di bestia Smette Piovere di bestia Smette Piovere di bestia E allora Perché ci sono Le palle slime Adesso Non ti facciano Le palle slime Che schifo sono Pony Fresca di mammita Ma non me l'ha appena Ti ho visto Mi ha fatto danno Deppure di slime Bestia Alessia Oh Torna a casa Alessi Guarda da l'altro lato Ma hai fatto che si chiama Alessi Ieri la corrente però non si è tolta Speriamo bene Regà Santo Pablo Che arriva La merce In carico Lei Conoce un tipo Si chiama Pablo E come lei Solo Che spacciadrone No Tengo non Codamè Nostraggio Samuel Lo libererò Lo farò per lui La porta è chiusa No Codamè Aspettami lì Troverò la chiave Vedo che c'è una stanza qua Anche uno mi ruota Ok Dele Hitbox Faccio un muro Damone della Titanite Dove si entra? Zio Ah da sotto Si arriva Hai capito Devo non farmi usare L'anodaci Ma che fai? Anodaci Io sono un cricoglio Fino adesso Ma stava a dirlo Voglio Farti usare l'anodaci E io la usavo Ma che fai? Anodaci Vieni Vieni Sto usando un martello Martello Grazie mille La porta mi ha scosta Guarda chi c'è lì Su Su Antantantantantan Tadadadan Aia 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 Con faccio il campo Dimmi che ce ne chiama Taccati con il ramo di ogni Cassetto Shinobi A niente di questi La chiave per liberare quel Kodama Kodama Tornerò a prenderti Kodama Lo giuro sul mio nome di samurai Ricorda che non lo siamo Ricorda le mie parole Non siamo Ah giusto siamo cavalieri Siamo inglesi Siamo pirati Kodama Te lo giuro La mia parola Quando i miei pirati parlavamo più Arr Faccio di gazz No io stavo chiedendo il pirato per inglese Ma che schifo sei tu Vabbè barbossa parlava Què trma Ah minchia La mia La destra o la porta chiusa E' la sinistra Io mi sto confondendo A un certo punto A un certo punto L'avventura Abbi sognata bene Se sei una Barbara Semplicemente Stefani Aiuto Aiuto No aiuto Sono tutta lei Viene alla micia Oh no Non mi piace quel calderone Né questo burrone Diciamo Non mi piace questa zona Non sono confidente Io apro la porta Ti ho mai visto Non te la apro la porta No no Eh E fai Non hai le mani Ce le hai Abre la porta tu Dai Vai apre la porta Non te la apro io Vabbè Io me ne vado Il livello 134 E' abbastanza importante Il livello 134 Perché è tutto così buio qua Si vede una madonna Sarà la porta Di là No Dall'altra parte Ma basta Ma stupidi Cazzi volanti Ma è quelli Quattro Che tengono Ah Andate verso il muro Questo è un colpo passo Ho disattivato qualcosa Ho disattivato qualcuno Questo è distratto Ma di sicuro Colpire la fune In un occhio Ah lui può colpirmi Vero Maledetto Ti farò causa Cazzo Se ne accorta anche l'altro Adesso E poi se tutti Può c'è dall'altro lato E dove vado Mi pare ci fosse Un'altra strada Io affrontare Quest'uomo Mi sembra saperne A un cazzo Vado a vedere Il migliore Sì Sei tu quello Che ha dimenticato La macchina Parcheggiata In doppia fila Via Brombey Mi ha fatto Prendere la multa Al nostro carissimo amico Ah Vedi che mi hanno Parcheggiato L'arca Buttana Tua madre Zocco Ragusa Parcheggiata In doppia fila Ragusa Mi è vero Questa è questa Ragusa Soppa Soppa Un Ande To Tan 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 Get a ride A Wait Me Aha Io sono molto confuso di dove sto andando Oddio C'è un uomo nudo qui Pensavo di averciato sempre con uno slime Un attimo Sempre pippe i slime eh Ti mezzo è una bega Mangia L'amico del cazzo Ma in chi? Ma in chi? Ma in chi? Nel tà io mi chiamerei Ma Oh Lei è invisibile Muro di cognome È morto per ferito da demone ammirita Che sfiga Allora è morto dal muro Allora Ci provo Signor muro Io mi prosto davanti a lei Non gli è piaciuto E allora No 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 Non si fa amico mio Che culo Gli è andato bene Gli è andato bene Gli è andato fottutamente bene Mi sa che devo andare su C'è un'altra Non lo so ma mi sto avvicinando pian pian Il rumore dell'acqua Andare là Oh no No si c'era la porta La fa cosa mare Pam 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 I miei stessi stivali I miei stessi stivali però forse le messe sema bonus danno meno armatura più 15 attacco inizioni del danno difesa più 6 ho ottenuto cazzo se ne accorto ma si dai aiutare questo rumore da subito qua mi fastidice non sei sicuro che lo stai fishando? cazzo che ha blatta che schifo ho detto blatta buone le blatte mi sta pulsando la vena sul collo mi ha smesso per monitorare il mio cuore c'era a te il primo che trovo e le cose la macchia le persone lo stagio no l'hai trovato con le persone lo stagio dico l'hai trovato è stato che l'hai visto non che l'hai e si è sai duro ventari di poverino le persone lo stagio metto mani in alto culo in basso tiro fuori in materasso sotto moro non giro talmente contorto ma qui questa è una troppo oh lì stiamo perso ah ma vedi te i casi della vita io da qui sono arrivato quindi scommetto che dall'altra parte di questo corridoio c'è niente di utile vero? vero? il tuo corpo non l'ha subito oh mi sbaglio assassino di un pasticcino la leggenda del pasticcino sento elettricità tremò c'è elettricità nell'aria armatura d'eccezionale cote dell'eccezionale cote quella cosa c'è nella testa l'ho capito dopo quando l'ho dissi che ti ne aveva la testa perchè non capito dove lo spawnassero oh c'è il si oh c'è il oddio cosa c'è madonna e da dove? io bestia porco tu devo subire danni dimostroso spara col colpo spara col colpo spara col colpo oh c'è il oh c'è il oh c'è il oh c'è il humming mi hanno gabbato c'era la ciappola non l'avevo vista era buio molto meglio 703 di schioppo ho buttato tutto io non vi sento la bellissiglione questa sarà che ti ha ammazzato e si sento perché gli prima mi hanno gabbato ma io l'ho fatta UTO è successo sei caduta perchè devo finire sempre io nelle trappole sei caduta giù in un vosso speriamo che non ci sia michelino tattorino tattorino che è successo sei caduta vieni qui camminacci sopra petticumbo ma che cazzo hai finito le bombe olor cazzo aia aia bastardo che è successo è finito la vita sento un kodama non l'assegno eccolo ma tutti quelli che li si scasiato ma cazzo ma cazzo non era quello che li dice mi sa ma si apre su mi diventico sempre di te alla chiodata Ma fai dei rialzi Ma questo è brutto vizio La gente Mamma mia We go again Mamma Porca puttana Che rallenti ragazzi Che rallenti Controller spegniti Controller Ti scarico ho capito basta Ma quello è un buco E' il buco di cui Prima io ero sopra Ma quanto ci ha messo Ma porca puttana C'era un metodo per risalire Ma lo spero vivamente Ma sto trovando il controllo Che è successo o sei un ragno Guardate che paura Non mi rallenterai mai Tutto stronzo Guardate che scarico Ho ancora acceso Mi puoi rallentare per favore Questa cosa Non dicevo veramente Stavo scherzando Ero tutto in gioche Ho pure detto qua Guarda Aspetta che finisca l'effetto E' finito cazzo Corre curro Ai Ai basta corre Dov'è ricordare che adesso Tutti Le cose che faccio Cioè tutti Gli amuleti che utilizzo Dobbbero durare di più Che è successo Sei un ragno E che cazzo fa Sono 8 elisir Numero perfetto di elisir Finchè non scoprivo che Ce n'erano più di 8 elisir Tu sei Eh si E' proprio uno stronzo Passo Uno stand di Jojo Ecco che cos'è Uno stand di Jojo Hai visto cosa ho fatto no? Cioè lui era lì in fondo E poi ha mandato lo stand A picchiarmi Questo è la Jojo Reference Dov'è la back door? Dov'è la Fire in a hole Di qua la back door Oh io devo uscire lui Ah l'armatura una volta Che mi dava Arca buttana buttin Mastro Fata pata pata Fata pata Rianzo adesso Arcattissimo Ma c'è poco Che è successa Sei cambiato Nel passaggio L'hanno messo Cote Ho preso una cote Una delle cose più utili Speriamo che sia venuto Oddio Mi ricordo Holy fucking shit Ma io volevo prendere il muro invisibile Prima Ah ma Sei ancora qui Non c'è nemmo al tartato vero? Questi disgraziati Non mi ti hanno fatto niente vero? Io non volevo copiare le sue gesta Scusami Porca la troia Che cazzo anche tu non posso Sì ma Pensavo Stavo cercando il tuo muro invisibile che non ho ancora trovato Eh stavo facendo una scherza Eh ti faccio vedere se vuoi E ormai lo so tutto Ah e quando tornerai su? Se Da queste parti Tipo Ah vedi Passavo andare Da questa parte Avevi il panno Tu salivi il panno Qua c'era un daemon E qua c'era il muro invisibile Dove hai battuto la lampada Praticamente Texapil Escanor Che maschio Escanor Ah ah perché l'ho rifatto? Sono morto Ah Guarda che sembrano farci Hai detto ok Ho la mamma puttana Non è possibile Saliamo da qui va E' successo Ti sei inticcato Sì io ti ho visto Ti ho visto Ciucciami le palle Eh ti ho visto Tutto è missing Tutto è missing Ora ragno A me non mi fate schifo Ora senti la catticoglioni E' successo Ti sei scordato Che sono fidanzato Con un pelato Ogni tanto Faccio un attacco in capriola E' proprio fico Fare un attacco in capriola Ogni tanto Mi piacerebbe prenderlo Questo stronzo Posso fare un attacco in capriola Te l'hanno insegnato Che? L'attacco in capriola In capriola Sì Non ho memoria di questo posto Tori cazzi Orix E' Tori No che paura Non so se non ce lo fai in tutte le stand Ma in stand alta Se fai Prima A E poi Y L'hanno fin l'attacco in capriola Almeno con l'odaci Quella con l'ascio Non lo so cosa fai No 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 Che cazzo Ti pareva che non era Piede but Con lo stencil L'hai detto tu Con lo stencil in salto Con l'anodaci Prima B E poi A Ah tu intendi Tipo così Devi stare fermo Stai fermo Fai un povero per altri Ah si No vabbè E' quando schivi Puoi avvicinarti repentinamente Si a volte Non ci ascoltavo Pensavo che fosse un attacco letteralmente Che caprioleggiava Che è successo Ti hanno casato No 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 Che cosa fai No 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 ricordi lo lo No 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 Ma ti ho mai ricordi No mi ricordi Ma Per un codano qui sotto per caso Si Parca troia Tu arendi a terra perder Era tipo Dove sei caduto Per cerchi In quell'area Dove si trovare Un codano Ho trovato subito La scala Va bene in realtà Trovare subito La scala Anni animo Figlio di buttana No Insieme a te Sei pericoloso Che è successo Ti hanno casato Nel 42 Era normale Come è morto in più dalle poste Mi dispiace No che hai detto C'era un muro Qui da rompere E io non l'ho L'ho ignorato Ok ho trovato Il cadavro Corretto Dove rifarmi il livello Unlike Mi fotti Da qua No No Il mio perciò Un amico Il ninja No secondo me Il tuo peggiore amico Sono gli uccelli Oh vai Dai chi ben inizia E' metà dell'opera Mi dicono Ormai il ninja Lo masteri Hai visto Ma che fai Annotaci Senti come brumba La gasolina Dai la gasolina C'è da qualche parte La gasolina Ah ho fatto la porta Non c'erano i miei amici Perfetto Così posso Utilizzare le bombe Per far scoppiare il mondo Va da lì Però non c'ho voglia Di utilizzare le mie bombe Quindi Senterò No Bestia 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 Come la tacco bello Tacco bello Tacco bello Morirà per il fuoco? Si 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 No La fenice Mi ha fatto attivare Petergrill Dove porta? Veloce Veloce Faccio Veloce Wow Ecco dove porta Vendetta vera Non finirò in galera Codama 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 Di qui Entrava in questa porta E trovava delle schede per salire Io adosso Trova Per rompere i muri E' sempre Gui durioso E' sempre utile Ecco le schede per salire Tu nonni Com'è Tu questo Questa felice Come stai No Che stai Di me Inchia Come stai bro Non lo posso rompere Oh la loda Ci tutta Hai 901 mila Di amrit Ma c'è il cazzo Che tenesse a corto Un livello Così posso utilizzare Il mio spirito Al massimo Del suo potenziale E basta Cipollinotto La No Perché 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 E' questa Questa Stacca E' quello E' perché Non mi ricordo Da quale Cosa Veniva Da quale Un quarto Di film Con Massimo Boldi E' una figlia Ecco 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 Ora Si è spento Per davvero Il suo progetto Nessuno Possiamo Boldi Quando c'ho La figlia Vai Tiace Pollinotto La Mi sono perso Ma che bello Il mio pc Che è nero Non è grigio Stai proprio Bene Senza Boldi Ho capito Te l'hanno mai detto Anche la stampante Guarda E' nera Il monitor Sopra Guarda che bello Ti hanno mai detto Invece Io c'ho la mamma Proprio puttana Mi dispiace per mia madre Dai Dai Dimmi Quale Io mi immagino Se in Eldi Arringhi Si dovesse attaccare RB E attaccherei con YP Ehm Vabbè Con YP Fai l'attacco Santo Infatti Infatti I cani Anziché non attacchi Con alto F4 Cazzo Tutto il gioco CEMO E' uscito E' uscito lo slime Quando hai detto Scemo Grazie a me che sei d'accordo Ti stai che bello Forse se salvò il clip Ci sei anche tu Ti è felice Allora lo vediamo Tu gli hai fatto quello rosso Giusto? Al muro Mi fai di sì Mi hai fatto Sato Allora Ti ho fatto No 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 Quindi non lo so Ti chiedo scusa No 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 L'allero L'evo il tuo cazzo di gesto Che ne fa i gesti di merda Infatti per questo Faccio quelli corti Io A parte che non è il primo Gli altri li faccio corti Così almeno posso Posso evitare Evito Davvero prima o poi Codama Vabbè ora so Quello giallo Tu ma hai proprio rotto il cazzo Cipollinotto Che cazzo Dai toccami Cipollinotto Mi hanno girato le gorn Scappa 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 È morto Come sei? Fa bene Va bene Come se faceva C'è il cuore Che fà Cio 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 Cosa cio 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 Cazzo o paulino come te la vedi una giornata al mare voglia di front canzone di coglioni un pito muro è giallo e ora affronto pure questo livello 110 che c'era davanti al muro sei la ragione del mio malessere per questo ti ucciderò spam ti ricordi di me ti ricordi di me ma mi ha trovato tutta l'armatura bella guarda aia mi seguo su di te è tutto col freddo la faccia blu se 150 si calmo però il bruto 305 contro spezza guarda una spezza guarda il tempo di rinforo pro chi ma guarda va bene vedo questo perché ho la difesa più alta e questo qui praticamente che schifo i colorati sono sfigati vestito nero ci vado fiero ma io c'ho una missione per te siamo e foto ecco non morire riuscirai a farci a fare due tre volte il mio cazzo lo vedi no no lo stremmi quest'arma questa cosa questa cosa vai a farti foto questa che ho da tuo marito questo daci ok ok si fa male fa piacere per te e di moltiplicatore danno fa 569 lo mao la mia fa 266 però la familiarità più bassa la cappata 550 e la mia 900 però la mia 900 ma è molto meglio infatti perché parte da 704 e farli farà quei 50 no si è cascato nel mio trenello oh no io stavo ricascando nel tuo è anche diversa ragazzi guarda guarda c'è il coso che faccio il gatto amici sto scendendo negli inferi oddio è l'inferizionone scontabile prevedibile ah la punta più puntosa ti piace il cazzo perché stai per averne tanto no dai ragazzi il gatto ero io mi dispiace ti prego facciami curare ecco perché c'era io lo slime che era vicino alla shortcut di portare al primo cosa del lupalo aia mi chiamavo con ogni send figli puttana no no ma come ti permetti sì ho trovato un codame bravo bravo ho sviluppato la shortcut al primo bravo anche ho trovato un codava ma non è da queste parti vieni qua che cosa mi raccogliamo cos'è che raccogliamo dopo e affrontiamo lui che raccogliamo che cosa è in strade che mia mamma non mi ha insegnato ooooh do you know do you know do you mean yeah ah 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 do you mean ooooh preghiamo per avere un figlio oh si la stretta di mano è meglio che tua mamma no no potevamo pregare in realtà ponte termale urgente termale non mi diceva il cazzo dritto non poteva farlo ma ci sei scopata lei no che voglio dire beh come dice jungart se non ti fai la prima fatti la seconda amore non è come pensi perché non sono il mio seno è ancora peggio yep 338 di gloria mi da ma mi fermo questo uomo aiooo ma che fai a notarci a me a me a me a me a me no mi piaccia la minga aspetta che è successo oh oh glicciano le persone mi piace farlo alle alle persone piace glicciare mmm che sapore di pesto che c'è nell'aria ma senti che tu questo incredibile sapore di pesto perché mi pestano non andare via da me nos e rosse se rosse per te ho incontrato stasera ho rubato stasera ma il mio amore lo sai se rosse per te se rosse per te ho comprato stasera è acqua oh cristo di un dio dice così perché sa quello che mi diceva morello e un fa e scoppiavano non avevo mai visto scoppiare ancora solo adesso è successo a fine gioco alla penultima missione la tronco non ho più di giro tronco non ho più di giro ma il meme è morto la tronco che mi salva in estremi ah non è che cadete sotto potete fare lui è pazzo sgravato ma il gennaio 27 mi sembra che abbia la spalla questo tremone come fa a sapere quanto ti da di di fis fis di fedeltà la gloria punti luce quando l'ho ucciso dice a sinistra quante erano a danza ci fosse un metodo per saperlo prima e invece no ha imbrogliato puttanella che sono salito sono sceso allo quindi sembra molto familiare questa zona ci sono sceso sicuro perché poi ho fatto questa strada qui sono i funghi questo non lo fate che se c'è trappola fermo amico rotino guarda quanto c'è morto questo di lei amico rotino questa strada non l'ho fatta che buono no io ho rotto il parile poteva morire da solo io ho incisciuto per salvagli la vita per poi ucciderlo ah ninja 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 da è proprio che sia parte questa porta si ti non smutano ninja da tu ti non smutano ninja da tu ti non smutano ninja da tu guarda ruve in azione e non fare la capriola stronzo non ti dico mi scusi lei conosce elisabeth wong? ai 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 ma scemo mi ha salvato grazie l'ho ucciso con la trappola senza voler telen smutano ninja da tu telen smutano ninja da tu tammali vero non c'ho quello che dura di più c'ho quello che lo uso istantaneamente su di me Non me ne sono accorto Di averli utilizzati Utilizzati entrambi La porta delle chiavi del carcere La porta delle chiavi del carcere Non il portacchiavi Ehi Vorresti contraddire la mia autorità Che ha la porta delle chiavi del carcere La porta dietro Non è il portacchiavi Cammina Sfrica per terra No lui usa una porta Per aprire le chiavi Non le chiavi Per aprire la porta Non lo sai Cato si nasce C'era la scuola di Troia Tartarughe in azione Camminare Guarda quanti esplodono Aspetta Devo fare una cosa Per goliardia Ma trova le bombe ragazzi La trovate EX EXPLOSION Molto proficua Ancora campi Ma stiamo a metto Ma c'è di gamberi Con i campi Maledetto Morduga Oh no tu 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 Ma no tu Ah La regola del 6 E' esploso Non posso morire Perché se muoio Non saprò mai Come sono arrivato qui Secondo me lo scoprì In caso dovessi schiattarci E' preso la Hai visto No Il slime Fastidio Cos'è lo vuoi Guardate lo si tira così Ehi Liberati da questo colpo mortale Muori Morello questo muro l'ho fatto scoppiare Tu li ho fatto scoppiare questo muro I muri da far scoppiare Ho fatto scoppiare In teoria Allora niente Ciao Un amico bombarolo Però tu non sarebbe una minchia Scusa sto muro Una piccola shortcut Ce n'è uno anche Che porta un Kodama E' dentro una stanza Con un arciere E' un tizio Che si vuole fare esplodere E' non credo Che voglio andare di qui I muri da notti Non ne vedo Oh 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 Dove porta questo? Ha bel Si Prodo Ma tappatazzo Di ass adesso Tu sei livello 137 Finchia Ma è bene Qua si va Pikachu Usa solo al raggio No Ma Pikachu No Sono cascato Dai Uno l'ha detto Taschete E' chi era un uomo Che parlava Orician Era 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 Richard Mi sto Onision Orician Onision Me lo infili Quel cango Wow Wow Sei violetto Non mi so Non voglio lasciare La mission Ok Ok Mi so Raffolo Gioco Che voglio fare Fesso con il mio Io Ciao No Sono pesante Vado a 72% Non posso Non posso Non posso Quanto C'è No Leggerissima Mi sono abituato A questi parametri Questi standard Ho visto Questa porta Doesn't open Eh Riduzione Il danno Tell me why Non mi interessa Sono tutte cose Bellissime Super utilissime Ma che non mi interessano Non è un buco vero Kodama Come ci arrivo da te Non è un altro lancio Oh non so Dopo Purificazione Recupero Automatico Mi serviva da sto Kodama Ma tra l'altro Ho tolto L'identificazione Di Kodama Si ho messo Il Maga Parca Ho messo il Magatama È una doppia elica Questa Finale Magatama E tu E tu C'è anche tu La tua Ma tu ci fai qua Quello te ne ero Io sono il Pablo Sai che scopo L'altro tipo Non le hablo Aspetta che porto Porto queste cose Al Pablo Questa parte È questa qua Era quella A destra Dove sono a sinistra Io mi sto confondendo Con questa Sir Sì Ma ora sono due Kodama Di su una porta Valese Che non posso aprire Però Sì L'è questo uomo 127 È un bel botto Tra l'altro Ah guarda Guardate il punto Del Kodama Adesso Dove Sotto Muori E spiega i tuoi mercati Morendo Ragazzi Ragazzi Aia Non c'è bisogno di fare cattivi Ragazzi Perché vi siete Triggati entrambi Ragazzi Ragazzi Non chiederò perché sa queste cose Avrei visto mezzo Grande fratello No E non sono pieno Passavi di erano E solo guardava Manco l'audio Tutte con le cuffie Solo guardano Sotto un po' Stati auli Nel culo Che fate Ho fatto male Non stato poco delicato My bad Mi ho letto Un altro Kodama È stato liberato Dalla morsa Di quelle artiglie Ho trovato La sauna Di Kodama Bene Io no Non è la sauna Ragazzi È la thermal La thermal La thermal Io bro Sì No 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 Cazzo È What's up You Who the fuck Is there Dimmi la parola In inglese È arriva lui Aiuto Aiuto Oh Morcazze Che fai Sono touch Si deve stare La bro Is touch Corri Corri Ragazzi Spara Il seme Più Papa Non ce l'abbiamo Un tedesco Un record Di distanza Oh perché Si è un record Su quello Ma il resto Regolo su tutto Oh Chiavi del piacere Già Già di mano Questa cosa Un certo punto L'ho perso E se quello Questo è un record Perché questa mia Puttanata No Quindi giù Dice Va bene Dai Puttanata Puttanata Che succede ogni volta Io non faccio niente Per impedirlo Ma mi ha dato duro Schivate una L'ho presa Ehi Sono il Pablo La scopola La tipa Non le hablo Ma tu dove sei Tutto ciò Come hai fatto La sauna De Kodama Perché stai fluttuando La mia lingua lunga Questa è solo Colpa Della mia lingua lunga Per questo Le ragazze Piacciono Una terma De Kodama Cos'è che mi è sfuggito L'ho sceso Era vicino Un Kodama Pure Ah bene Io non ho trovato Né quel Kodama Né quella terma Kodama l'avevi trovato No fidaci Non l'ho trovato Tutti Lui è sceso Lui scende Già Ha questo vizio Di scendere Guarda che cos'è Ha un barillo aperto Poi vai a capire Da che lato Sono sceso Eh eh Allora io Sono andato sempre a sinistra Andiamo a destra Cosa c'è a destra Si scende L'ho Ecco Lui ha detto Che è sceso Ma era in Tipo Delle grotte Sì Sì Andiamo nelle grotte E' questa E' questa qua E' questa qua E' questa qua E' questa qua Trova E' uno dietro Un angolo In questa zona Però Non so se le vissi Il cadavere è anche uno di sotto Guarda Se tu vai in questa porta qui In questa grotta Qui all'angolino C'era un Kodama Eh Quello lì è quello vicino Ah ok No Allora è quello Qui dove è posta Che non posso andarci Quegli là sopra Come si aprono le porte Li liberati Quelli di intrappolati tu I due intrappolati E' due nelle stanze Che non si possono aprire Le aperte C'è Quello Nei sotterranei Si Non so dove Intendi l'altro C'è un altro In cui non c'è nessuno E' sotto un tavolino Lui Però non posso aprire Perché si apre dall'altro lato Quella là E non so come andarci Dall'altro lato Però Tavolino E' sempre tipo In una stanza di queste Sì Sì E' così La porta che ti dice Si apre solo dall'altro lato Lui c'è tutto un tavolo Ecco Ci sono appena arrivato Eee E ho girato a cazzo Da quelle zone di lì sotto Velo sotto Poi c'è una parte Che sale su E ti porta Alla Questa cosa A torto Alla Quella è Maglio che per l'altro Serva la chiave Vero? Si Nell'altro Serva la chiave C'è L'ho aperto Io adesso Non riesco a trovare Nemmeno il Kodama Che dici tu? No Guarda Basta che dalle termine Dalle termine dei Kodama Vai a destra Dove c'è il burrone Non prendi il burrone Vai nell'altra strada Ancora a destra Dove c'è il ruotino? C'erano i ragni Aversi i ragni Quindi la salita che c'è E appare in quella stanza Allora andiamo Perché io amico il ruotino Ho trovato I ragni Il ruotino ce n'è Mi ha Ha innaffiato Quello slime E andare al puntino Allora vediamo dove era in quella stanza Dove essere qui Allora tu hai detto Dove c'era la termine dei Kodama Quando esci vai a destra Quindi ho dovuto essere a destra E proseguire Ma qui è dove ho perso la chiave Mi ricordo Ah ce l'ho fatto Vedi qua Eccolo qui il Kodama E che mi confonde Questo cazzo di labirinto Lo vedevo aperto effettivamente Dicevo Sarà saggio scendere da qua? Sarà saggio non aver trovato tutti Il Kodama Non sapere dove è l'ultimo E' l'ultimo ragazzi Come devo fare Voglio prendere la chiave Ti direi pure dove sta Ma Eh si è qua Ho due tipo per prendere la chiave Però due tipo Cioè in realtà no E' questa stanza qua C'è l'onici L'onici Ah la stanza del boom Questo Vedamente non so Mi è apparsa Sì Sì Tutte Tipo da Un baby vai Becco 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 Una volta che volevo schivare E togliere l'area No perché c'ho quella Ma vede che si può fare anche schivando Le ripulli del mare E via E via che mi sono messo in un angolo brutto C'è Tutti i posti Ficca Spirato l'ultimo Ah Lì mi trova la stanza Ecco la qua Eh si L'ultimo Eh vedi Mi spunta qualcosa C'è un qualcosa in viola Se c'è in viola L'obiettivo Di sotto Le chiave delle celle Parlasse Speramente E' una Forse Guarda questo Kodama Eh ciao Kodama Questa è la stanza che ha fatto scoppiare Morello Immagino C'era un Kodama Sì Quel Kodama era in un buco sopra l'Evaso Eh si Sto girando tutto il tempio Ma non mi pare di aver visto un altro Kodama Sperate Ma non mi pare di aver visto un Kodama Sperate 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 l'ho fatto detonare qui, ma... ah vedi, sono indietro guarda me qua, però su i figli anche sono da me su e giuro, non può essere qui qua sotto in tempo meno sospetti ti avrei adorato adesso adesso no mi sono salvato da certe trappole come sono andato da oh allora, provo a buttarmi anche nel buco io se invece salgo, prendo il giro ritroso no, Luca, io l'ho detto è qua il buco qualcuno ti da un cocktail con chi dormi stanotte non capirai soltanto se l'obiettivo siamo figure che facciam male alle mosche non so che cosa era niente passano e erano questi quello che tu non mi mostri i tuoi demoni e tutti i tuoi mostri quello che pensi quando resti nuda quello che pensi quando resti nuda tutti i dubbi su chi sei sei e quello che ho cliccato adesso in realtà mezzo che lo tengo e qui è il tempio kodama e no, o l'ho presi tutti o non so minimamente dove cacchio io abbia perso l'ultimo kodama kodama no, 8 su 9 io non so dove cacchio l'ultimo kodama 253 intanto gli elisir qui c'è una crepa no vai 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 quello dall'alto c'è uno che era quello e dai oh non c'è non c'è non c'è l'uomo tu stavo li ma potevo ucciderlo no e questa è la master per c'è la seconda volta che fai 900 mila anime controllo non le controllo delle cose controllo più che altro e da qualcosa di utile per la merda mi dà tanto di merita, tanto di merita perchè andiamo a fare la ruota? il senero di harinombo ma monk però è lì quello? no è oro è dorato e ci sono le frezze ma qua c'è il quaderno che dico io ma lui si è attivato, com'è possibile? eh ora potete uccidermi, vedi che bello può uscire fuori però una volta dai ragazzi mille, al prossimo beh io vado avanti eh mi sono rotto i coglioni di cercare l'ultimo non lo trovo merda salaccia atta 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 quello bello con l'accetta atta atta c'è una cosa che esplor... vai via ricorda quando avrei parato a camminare in modo diretto ok, dovrei essere al tuo stesso livello adesso, ovvero con otto kodama sul no ne manca uno vabbè, se l'ho incirato se l'ho trovato tu, l'ho trovato io quindi io direi di andare avanti, solo mi son perso un attimino però di più questa zona l'ho già vista, quindi non puoi essere qua sono 18 voti da sta zona però mi ho riposato pure io e poi lo trovo casomai a fine live e una volta i coglioni doverlo cercare non è morto eccolo è il tempio questo o è il tempio o è lui voglio vedere se l'ho trovato quello è un puttino verde però... è un po' è un tempio no, poi è stato un tempio bello no, sono morto ma porca puttana Ma che cazzo ci va Andatevene a cacà ma fino a qui mi state Questa porta è chiusa come si apre questa Probabilmente se è chiusa con il tuo potere Cioè con la tua chiave Ma è chiusa dall'altro lato No come cacà E' proprio dietro questa porta che c'è il pallone del Kodama Che potrebbe essere il Kodama Forza c'è il Kodama Ma si allora è il mio ultimo Strano che tu non l'abbia preso Comunque se è dietro questa porta credo sia l'ultimo Eh io come faccio non trovare l'altro Eh non lo so magari neanche un due Non lo so Posso prima aprire questa porta Perché se questa è aperta tu non hai il l'ultimo Eh si fa dai sotterranei per poi risorgere Perché lì è dove c'è la parte finale se non mi sbaglio Questa è parese mentre la motora di prima Questo tempio E lì Ah no tu forse dici questa No perché c'è il tempio l'ho aperta una Quella l'ho aperta Allora non lo so Io vorrei aiutarti Fa tutto Fa così Vabbè già che ho detto che sia per da sotto Lo sotto Eh Ah no da sotto E ce n'è senso Vedi dove Vedi dove è questa C'è tutta la parte Eh c'è tutta la parte di dietro Per Per andare avanti Verso il bosco Quello che dovrebbe essere il bosco Quindi io mi chiedo Se ti ho trovato l'ultimo Io ti ho trovato Non so se l'ultimo Non so i numeri Non l'altro Io sono aprivo quella porta intanto In realtà adesso Io vorrei ritrovare Le mie anime Non è proprio così fa però Vai morite strozzi Qui c'è La parte finale Eh no la porta è quella lì Ma se mi butto da qua Muoio Non so Vediamo dove si Guarda che questa E' là dove c'era il Il barile Il baule Ma qua è dove Ah Questo sfoscia Lo sai dove Dove c'è il tempio Godama Sai che io Ti ho detto Che ho incontrato un ruotino Eh E' da lì Se continui quella strada Dove ho incontrato un ruotino Vedelo Amico ruotino Stavo scendendo E' da l'altro E' più scuro Quello del tempio Godama E' più cicciotto Più che altro What the fuck Ho sbagliato E' stata per l'annesima volta Mi vuoi dare Una mano Gioco Mi sto perdendo E tu non mi aiuti Che cazzo Dove cazzo stai Stai di qua Stiamo indietro da questa parte Ma eccolo Ah non c'è la scala Ok Ho perso la scala Eccolo Bruto Ma è la solita cosa bella Che non è questa L'altra deve farmi Oh Tardi Che che fa via Ma va mezza farla Non male che c'ho la scala Lui No Rimone Oh cazzo Porta anche lui Proprio E' Oh quale cazzo Era quella Stata lì Stata lì Rosso ho preso le mie anime grande erano solo 700.000 che cazzo me ne frega a me vieni non lanciarmi le cose ho messo devo uscire scusate che ha il diritto a rimanere in giudice cosa che dirà potrà essere usata da lei in tribunale diritto è un avvocato per metterne uno per mettervi sarà assegnato uno di ufficio almeno due livelli erano utili lei è un coglione invece ma tanto ormai lei è un coglione io direi tre tribunali sotto tre tribunali sotto la candle scusate un pazzetto ma veramente perfetto l'ultimo tribunale guarda 0 a ah no 19.000 mille erano neanche mille oh ciao ciao don albero che gesto vuoi no 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 hai detto la parola magica oh no ah ciao con brush atore yokai completato ho fatto la game mian questo è epico si cazzo lo ricompero su steam questo gioco però E' un attacco decente Eh? Lime E' un dito al culo slime Mi hanno resa ancora più dito al culo Sono qua E' anche ancora sotto Eh? Conzone Il fatto che io ando a partire la ruota è solo sulle balle Ho su di pelle Come faccio un culo a uno slime Dai die Adesso Vabbè mi ignoro tutte e due Dov'è una pecca Un'altra Sbagliato Sarà la mente Rinusci tu Mai bene Molto piccolo io vorrei giocare Ehi Ma quella che rimango Sono tornato Non con facilità Avviato che ho perso tutte le anime Però sono tornato Come fammi il massimo L'ho raggiunto Quanto danno fai? Merda scusa E' meglio la mia Ah no L'attacco però è più alto E' meno Moltiplicatore A tacco A tacco E' meglio questa A tacco dice Lei Mi divento questa C'è C'è ancora più alto Cioè Ho qualcosa qui che non riesco a spiegare Chi è quasi elettrico Che cosa importante Che mi ero perso C'è un rumore elettrico Dove ci sono i ragni Noi Ho prestato Not-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to. Oh cazzo Vediamo se hai shoto lo slime e si fa la mossa per i tuoi Ma fai la mossa che dico io? Questo l'ho preso Questa è più forte Ma qua è sacco l'uomo Fa tutto il giro E' davvero? Esco di qua No da qua non si esce però, non è che uscire per uscire, da qua non si esce, non c'è che uscire da qua Così invece? No non c'è niente Fare un altro giro Ma guardate che cazzo La strada giusta l'avevo trovato E' a me frega niente La strada che avevo trovato giusta vaffanculo No Non mi interessava Emma Eeeh Ma ti posso Cioè Quelli in caccia Malve Mi cagano quelli Mi cagano questo qua Oh Ma quanto Non lo meriti Faccia di merda Malve Alve Ho capito Sai quella parte in cui dicevo Si va avanti In realtà è Un altro pezzettino Non è il boss E' lì l'ultimo Kodama Ok Intanto devo Aprire sempre quella porta Però perché C'è un pallino verde Mi sapete che pallino verde è adesso E' il Kodama Ma quindi è molto più avanti Ah sai dove Cioè devi andare dove L'è sconfitto il ciclope Per prendere la chiave Lì devi andare Eeeh Basta che scendi dove ci sono i rani Dove è quello? Infatti è un micro ruotino Che non te ne frega Niente Fammi andare A prendere quel tel Cioè poi Ma questa strada in teoria Dove fare anche lì Ah di qua è di qua ragazze 100-100 Vediamo Ehm Esplodete qualcuno tipo di esploda Nooo Dovete esplodere Non rompere le cose Cioè sto stronzo Cioè sto stronzo Ma faccia di merda Era palesemente un KS quello lì Stava vero da cullagli da cullalloni Guardate sto stronzo Adesso Ma riprende però col checkpoint ripeto Al Ti cuuuun Ti cuuuun Ti cuuuun Ti cuuuun Ti c'è la porta Ti cuuuun Ti cuuuun Ti cuuuun Ti faccio così Non cazzo per cortesia E a cah Ancora ti è mutato Ma tutto è smutato Stavolta Ecco qui Cazzi duri Oddio non c'è Però c'è il potere della fenice dai Siamo quelli Lo sai Ma ti pare che sono Gli spai Lo stai Rotto nel culo Adesso mi devo qua Ho preso una ballona tanto male Posso correre fino a Qua Palla Palla Quando sai che c'è la palla è facile Troppo Ho fatto appizzare Le anime Pure La direzione Come il culo Come il culo Parte La porta si va qua Ma siamo siculi Siamo siculi Siamo siculi Qui Sono nella bocca Il serpentone Ci sono delle assi Prima del No non devi andare alla porta Lo trovare Comunque andare alla porta La porta è il serpentone Intendevo Tutto in fondo In cima Ma prima di entrare in una bocca Tipo a destra A sinistra Da qualche parte Ci sono delle assi appoggiate al muro Sì sono entrato Sono entrato Perfetto Tu vai avanti Perché scendi poi dal serpentone Però da un altro lato E dovresti aprire la porta Che dicevi tu Perfetto Devo fare un altro livello Che butterò Sempre in energia Ho trovato Dovevo ritrovare qui Da qualche parte L'ultimo Kodama Ok Questo il Kodama Ho capito L'ultimo è dietro Con le porte Credo C'è l'ho preso 8 su 9 no Quindi ancora non l'ho preso Invece si era qui da qualche parte Tizio Ho fatto vedere che era qui da qualche parte E' chiuso dall'altro lato Perfetto C'è C'è un Kodama più vicino di quello mio Che all'inizio Che mi sono riporto dall'altro E' dopo la porta Se riesci a sopravvivere C'è una battaglia con un One Che riesci a sopravvivere Cazzi Tutto Il tuo premio sarà al Tempio Kodama Questo lato Mi pare più che ovvio Questa si apre? E' solo 18 porte Quante porte Oh no C'è il ragno gigante Non lo affrontavo da un botto Che tempismo di merda Colpire il dietro Non ti mettere negli angoli Fatti colpire il dietro E' intenzionale essere figlio di puttana? O ti viene per natura? Sì Questa porta non la posso aprire noi Saperle queste cose Oh vedi col dietro quanto è stato facile Ma questa si Cosa potrebbe mai esserci? Se ci sono delle uova dentro questa stanza Il costo di Kodama non so se l'hai preso Ma sta vicino a dove ci sono i cosi per sponare la testa Mi sa che vedo l'altra Ho aperto la porta Cazzo l'ho fatto spillare Non mi volevo per lo spillare No! Ho appena riconquistato il potere Non me lo farai andare via però mi può rotire farlo c'è una nuova puttana oh era per il fuoco anche lui prima che scade è molto per il fuoco vorrei dare testo e non lo accetterò ogni ora oddio quanto ho bestemmiato per te guardate con un vantaggio te lo hai fatto una domanda te lo vuoi vedere e ho fatto non lo so Rick mi sembra falso ma c'è un geninaggio lì non lo so non mi ispira per il momento nemmeno un geninaggio lì mi ispira tanto come attrice quindi il basi di film è per il riguardo sanno come ti aggrava la gravità oh no guardate posso vedere anche meno oh mio quanto rompete le scatole un po' spreco il potere e quando vado al boss non ce l'ho più non ci farò mai che c'è non permita a mente tanto le scatole la vuoi togliere? la vuoi togliere? sì come no che pari è stata lunghissima comunque due ore solo questa missione è tornato con su GX Dio mio devo recuperare il potere del mio uccello dovrò uccidere un paio di persone uccidere io non tu video rotino esplode e forse si deve ricaricare abbastanza velocemente e sono già a metà che bello il potere i poteri che si ricaricano ambres ambres oh ma posso fare un altro livello? ma che che ma l'altro ho veramente qualcosa che mi aiuta a recuperare l'isir non è possibile esce il 3 novembre da che esce il 3 novembre? terni ah ci stavo ancora pensando che stessi cercando ancora i terni quindi ci sei anche tu se ce lo andremmo a vedere? si se è un film marvel io voglio guardare di basso l'altro il 3 novembre ma il 12 esce shang jai shin su disney plus l'altro il 3 novembre il giorno dopo faccio il compleanno andiamo a guardare il 4 oh no oh no c'hai qualche festa in programma il 4 io bello io festa in programma non ne ho mai chiedo chiedo per un amico quindi paghi per tutti e si sto cazzo però ti l'ha stata tutta per te e magari sarebbe bellissimo mi sa che sto per affrontare il boss anche perché è il secondo giorno stavo parlando che è possibile dico wow che paura fare con il serpente noo è lui ah è giusto noo lo è uscita adesso o ci fa sesso o lo è uscita non crei che sono le cose quindi voglio aprire questa porta qua ma se piacciono le cocciole nel tè non so perché ma pensavo per dire nel culo è inverno non dici stalter no ma c'ha l'orso aspetti un attimo eh noo devo devo bucciare la cocciole ma il dono non dovresti affrontarlo ecco infatti non lo affronti lui ah ragno grosso ah mi sono riposuto qua dietro sti cazzi ragno da un rider sudiana ma è una persona normale scusami è un cristiano normale e faccio molto male come un cristiano normale ormai però vabbè è uno stronzo qualsiasi con laccetta però ti ricalcia anche un po' di fulmini qua e là pure che paura che ci ho dimenticato e basta pulso chiami il figlio Jenny è mia zia o una voce no ok una voce che non è come tutta ma dove sta la mia mamma qui perché non gli risponde è la domanda qui però sta andando da sopra a cercare un pezzo per qualcosa che palle potevo tagliarmi un pezzo qua sopra io voglio solo star mai buttare il tutto via pure l'armato è la domanda è la domanda Cosa sta facendo? Qui c'è la morta che non si apre Ma chiamatemi mamma adesso? Sì Era Fabiola Che... Mi sa che è Fabiola Dimmi Ma santa la perla Nera La di Jig Sparrow, bello lui Sì Grazie 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 hello how are you one of the water and the east road I don't want to run one of the water but there is nothing I don't want to run 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 The water and the water the water the water this is a spaw there is a fire ah il fuoco buco sembra un caccia di dire che paga mi spengo invece c'era funghi ah no no lì l'ultimo kodama non era l'ultimo cazzo ne ho cannato uno non è possibile ho fatto 18 giri ne ho cannato comunque uno ma porca che stressa qui lì non era proprio solo fare anche altra missione e li ha magie spirito mi accoglio non debba essere qua e non ha aperto questo non c'erano non c'erano è quella più ok andrà Sembra ruotino! E' lui! Morta! L'avevo vinto! Caga la ruota, vero? E' il somme E' il fiamolo, questo! E' il fiamolo, questo! E' il fiamolo, questo! E' il fiamolo, questo! Andiamo a fare l'amico Fritz! Andiamo a fare l'amico Fritz! Andiamo a fare l'amico Fritz! E' un'altra parte di qua! E' il fiamolo! E' il fiamolo, lo odio! E' l'ho sentito, eh? E' l'ho la miccia nel culo! Questa è la porta che non si apriva e questa è l'altra porta che non si apriva, perfetto. Poi là! Il giocatore! Un'altra porta c'era! Un'altra porta c'era! Tu ancora? E' troppo agli! E' troppo vicino! Ecco il bimbro! Ogni passo che fa vi avrò il pedo Ciao hamburger di Far Cry Vado a vibra senti senti Ciao Ho subito un animale usate ma perchè siete così bastardi? Che non lo so, continuo forte di quelli a te Cucco me l'ho rischiata Perchè Perchè Guarda Valle veste E via pugni Eh Oh Guarda 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 mamma mia non ho la stamina che errore che feci e finisci la tua stamina forso no finisci la stamina oh no la katana adesso la katana devi stare calmo la katana ti rallento però la katana ti rallento però devo rialentarti ah no c'è proprio con l'accetto vabbè non mi fuga via e basta io ho parlato mutato bene dai bro come hai fatto a finire la stamina? da me è finita prima la vita ti rallento no ti prego io con l'accia faccio cagare nei combattimenti per spesso però so fare una cosa con l'accia mazi il secondo boss per strike l'ultimo non lo uccido più dalla serie prima vai dai però tu mi piace un botto questa mossa perché l'hanno inventata io l'ho trovata però regali dai che balle dove di farmi sta missione per un codano ma dove era poi sai che non l'hai trovato? wow wow un codama eppure non c'entrano più lo giuro quello là dentro l'hai trovato? si mi domando quale sia che non l'hai trovato tu ti hai trovato vero come lo scommetto eh eh infatti pareva oh ma io con la percezione godà la trovo tu anch'io ce l'ho ma uno comunque è scappato l'ha venduto Ciruzzo il grande la percezione godà io di su camicia perché potrebbe essere fallata lasciamo la missione e lasciamo questa missione del merdo allora rifaccio adesso non mi interessa cerco su google dove l'ultimo e poi chiudo la live vedo dietro la posta l'hai trovato ho fatto un giro diciotto volte guardando la mappa non c'erano puntini verdi no ho mancato uno è dove le fatte slaughter dove c'era amico arcerino amico bombardino dove c'era l'arcere che sta parlando dove c'era l'arcere che sta parlando ho detto ma c'è un po' mamma che ho 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 messo gli uomini che hanno battuto l'uomo 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 non lo può dire non so non so come cazzo ci faccio provate non so come cazzo ci faccio provate scegliere gli obiettivi nascosti ne ho fatti 21 di 49 oh hai acquistato tecnica esotica per la spalla ah la maggior parte saranno così guido le altre ottene tutti i kodama nella regione di solo il mio lord può regolare un mondo così crazy come questo hai sconfitto Saurite Shan hai utilizzato tutte le sorgenti termali il capitolo assedio di osaka inverno ah quindi sono cose che è proprio da fare vabbè sta parlando allora oh cazzo mo mi toccano le doppie spade mo mi toccano mo mi toccano mamma le doppie spade che spalle ti mi copri caspo ti mi copri caspo ti mi copri caspo fa culo un vero sumo l'hai completato no la mia sacca mi va la magia va bene questo è buono ma perchè non mi dà forza 8 di 9 non ha uccido una persona da una vita quanto di nono che cazzo è il nono posso fare tutto posso fare un livello mi manca un po' mi manca un po' ma devo rifare con nessuno vedo dove devo rifarla ci manca uno con la coppola da curatore continuiamo a vedere su gogle dove cazzo mi piace che mi piace che io lascio la porta chiusa loro me la lasciano aperta io la lascio aperta e loro me la lasciano aperta ma vogliamo tant'è un pubblico c'è con me che almeno una delle loro madri tanto io qui non ci vede mai nessuno qui ho il corridoio il mio bagno l'attense da letto libero quindi me la porta abitamente oh no devo passare alle doppie lambe ehm vero che schifo monos magia omnio oh no non sono affatto male non sono affatto male il ai gli non sto scrivendo io ho dicevi ben inizio oh sono quasi tutti quelli dell'elisir ai gli porco qui ho un risultato vabbè è Game Hero quello che è sicuro si 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 su Kit & Bruno questo l'ho preso questo sono sicuro io l'ho trovato è che non bastano no forse bastano giusti giusti si che sia quello quel muro non mi pare di averlo fatto esplodere cazzo oh si io mi vedo gli ultimi episodi di Steven Universe stasera mi posso vedere su Netflix un salume niente 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 niente